certo i meriti artistici non vengono riconosciuti per caso o per sorte ma di sicuro non si può dire che sabionetta e rocca bianca tra mantove parma a due passi della provincia cremonese dal casalasco abbiano portato male al regista piacentino marco bellocchio grande protagonista nella rassegna dai lastri d'argento il suo film rapito ha letteralmente sbancato vincendo sette premi tra cui quello più importante per il miglior film oltre a questo rapito si è guadagnato anche miglior regia miglior attrice protagonista con barbara ronchi miglior attore non protagonista con paolo pierobon migliore sceneggiatura miglior montaggio miglior produzione i nastri d'argento assieme ai davide di donatello sono tra i primi più ambiti a livello italiano e sono il più antico premio istituito nel bel paese nato nel 1946 assegnato dal sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani bellocchio ha scelto rocca bianca e sabionetta e qui aveva ricostruito la bologna di metà 1800 una storia inquietante decisamente poco sana quella del bimbo ebreo edgardo mortara rapito nel 1858 alla sua famiglia bolognese portato in vaticano all'età di soli sette anni per volere di papa pio nono così verrà educato alla fede cattolica nella roma pontificia con la lotta dei genitori per ritrovarlo aiutati in questo dall'opinione pubblica ormai insofferente verso il potere temporale della chiesa materiale a quello aveva lavorato inizialmente pure spilberg una quindicina d'anni fa salvo poi abbandonare il progetto che ora ha visto la luce con bell'occhio conquistando la critica e stando ai numeri anche il pubblico con ampi squarci di casa nostra